È il 193esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Olga di Kiev. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero porta fortuna è l'otto, il colore è il rosso e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. L'11 luglio del 1982 la nazionale di calcio dell'Italia guidata da Enzo Bearzot vince il suo terzo titolo mondiale in Spagna battendo in finale la Germania Ovest per 3 a 1. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati l'11 luglio ricordiamo lo stilista Giorgio Armani e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. La citazione del giorno. Dopo una certa età ognuno è responsabile della sua faccia. Albert Camus. Dice il saggio. L'anima dell'uomo non è un sacco da riempire ma un fuoco da accendere. Il bel paese. Cerreto Sannita in provincia di Benevento è conosciuta come la città pensata per la sua conformazione urbana estremamente regolare concepita dopo un terremoto che la e di tantissime botteghe artigiane. Cerreto infatti è rinomata per la produzione di ceramica e per i suoi prodotti tipici in particolare i funghi. Grazie a tutti.